Vuoto adesso. Padrone, è dentro, no? Per Baccarota fraudolento. Ecco, ci vediamo qui, c'è un po' di riscaldamento. Sì, è la prima volta davvero. Ma adesso dai. Non perdiamo tempo, ci spogliamo, mettiamo la roba lì dietro. Ti va? Dai, dai che siamo bene qui. Con soli. Ma come che si fa? Io ho paura. Non ho paura, dai. Ma non mi fai male. Ma no, lasciatemi dare da me. Ma no, non mi fai male. Ma no, che non ti faccio niente, dai, non ti faccio male. E se mi sento male, mi aiuti? Metti lì dietro. Io sarò troppo. Aspetta, aspetta, perché io non ho tolto niente. Calzoni, devo togliere tutto. C'è un baretto qui dentro. Anche servizio. Ma io sono stemmi, non bevo. No, no, io ho paura. Ma quale paura? Butta giù, butta giù. Ma perché ti levi i pantaloni? Se per questo tolgo anche le mutande. Ma no, le mutande no. Tolgo tutto. Ma no, aspetta. Tu chiedi qualcosa che tu stai insieme. Sì, io tengo le mutande. Ma io tolgo tutto. Io voglio un bacio. Ecco. Tollite l'orologetto. No, l'orologetto no. Può grafiare? Toglio. Chissà che succederà. Ma no. Ma no, vedrai che non ti succede niente. Ti fa bene anche. Vienimi sopra te, no? Sopra. Adesso in rotazione. Te ti devi alzare. Ma batto la testa. Guarda. Ecco. Ma è un casino. No, che non è un casino. Attento al cambio. Sì, attento al cambio. Devi solo stare attento al cambio. Sì, attento al cambio. Devi fare molta attenzione. Ecco. Così. Io adesso butto giù lì. Hai il volante anche. Fai fare apposta. Ma senti, io ho paura. Aia il cambio. Ma no. Ma cosa vuoi? Sì, ma dai. Guarda. Guarda. Solo questo braccio qui. Ma io vergogna. Dai. No. Aia. Il cambio. Ma che mano dove sta? Aia. Leva la manina. Leva. Leva. Così. Aia. Aia. Aia, porca. Mi fai male. Ma no. Ma no, che non è mica niente. Ma dai, ma cosa ti faccio? Ti ho fatto qualcosa fino ad adesso. Male. Ma no, che non ti ho fatto niente. Sì. Aia. No, aspetta, adesso non mi fa parlare. E' già. Guarda. Con calma. Con calma. Dove vado? Aspetta, aspetta. Vuoi che mi metta? Aspetta. Ecco. La gamba, no? La gamba. No, ma guarda. Sì. Scusa, dai letta, ma è che c'è una staglietta, no? Sì. Ecco. Metti. Dove? Ah, ma gli altri dove la metto? Il piede, ecco, guarda, il piede. Quale? Se allunghi il piede. E io non tirare. Ma no, scusa, io ci toccio ai volanti. Io cambio. Ecco. Cos'è sto problema? Vieni qua. Vieni qua. Passami... Passami... Ecco. Passami l'altro piede. Ecco. La poggi lì. Ecco. Sì. Ma... I capelli, i capelli, i capelli, i capelli, i capelli. I capelli. Aia. Cagnieri, i capelli. Ecco. Sì. Ma... 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 Che freddo, Dio. Che freddo. Ecco. Ma come sono con te. Ecco, finito. Finito, Adelsista, finito. Già finito, finito. Finito? Bella. È un anno che ce l'ho, ma la guardo ancora. C'è niente da dire. Macchine indovinate. Tu non puoi sapere il piacere che mi hai fatto. Perché hai confidenza con quella brutta porca lì? A me non vi tira più. Allora ho detto. Vuoi vedere che faccio la fine del minutino? Avevo dato la colpa alla fabbrica. Tutto il giorno lì a pedalare, dico. Ma come? A 31 anni? Io non ho mica sentito niente. Eh... Ho sentito niente. Io sento solo male e basta. E adesso? E adesso cosa? Ma è amore questo qua. Amore. 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 Amore... Si fa. E quando è fatto, è fatto. E uno ritorna in sé. Sì. Già. Come le bestie. Come le bestie. Come le bestie. C'erò i piedi. Le mani. L'usel. Allora? Come le bestie. Bestie. Eh... Una cosa più sexy. E quando è fatto? Quando è fatto, è fatto, no? Vaffanculo. Portami a casa che devo lavarmi. Le donne... La prima volta non sentono mica niente. Sentono a 30 anni. C'è mica bisogno di insultare, no? Dovresti pagarlo il tuo Lulu per questa bella manovalata che si è fatto. Lui. La realtà è la realtà. La realtà è la realtà. è stata. Poi.